Sì, 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 dai, 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 questa partita era tremendamente importante, tremendamente importante, era una partita da vincere, non da giocare, non da pensare, non da preparare, da vincere, il tempo era zero dal servetta oggi, c'è il tour de force dalla prossima, c'era la possibilità di andare al momento, almeno per qualche ora, al quarto posto e andava a sfruttare la Roma in qualche modo, con troppa sofferenza, ma ormai questo è un classico, l'ha sfruttata, quindi bene così, meno male, prima di parlarne però iscrivetevi, like e commento qui sotto e seguitemi anche sugli altri social, come sempre, il link lo trovate in bio. Detto ciò, allora, Reggio Emilia, per chi ti fa Roma è sempre stata una trasfertaccia, nel senso che ogni volta la Roma va lì e fa male, gioca male, sono partite sporche, partite maschie, partite che si vincono con tanta difficoltà, il Sassuolo è una squadra che ti sa mettere in difficoltà, è andato anche a San Siro a battere l'Inter capolista, quindi comunque non è una squadretta, questo è abbastanza innegabile, è una squadra ovviamente che ti mette in difficoltà, che comunque ha dei singoli anche secondo me molto interessanti, per fortuna e non ci credevo, oggi Pinamonti innocuo, Pinamonti veramente neutralizzato, Berardi ha fatto un po' il fenomeno, ha fatto qualche dribbling e qualche danza sul pallone, però fondamentalmente poca roba, la Roma è andata sotto, è andata sotto con un gol che non puoi prendere mai nella vita, perché quando hai quattro difensori in area e quello lì si incunea dietro di te, tu non lo vedi proprio, non te ne frega niente, di quello è grave, è per me molto molto grave, quindi una difesa che come sempre dorme, per fortuna nel secondo tempo ci pensa l'attacco, anche se pure là è da vedere, perché oggi Dybala ha fatto per me un partitone, c'è da dire, Lukaku Maluccio, Lukaku Maluccio oggi in realtà, e se Lukaku non gira diventa difficile, meno male che hai trovato un Dybala super, un Dybala che si è caricato la Roma sulle spalle e ha fatto vincere questa partita la Roma, con il rigore trasformato in maniera chirurgica, veramente perfetto quel rigore, e poi con l'assist di tacco per Christensen che si inventa un gol che non è neanche un gol, in realtà secondo me ha autogol tutta la vita, ha tirato una sciavattata indecente, deviato, e quindi il pallone poi per fortuna con una carambola, una parabola, comunque in qualche modo è terminato alle spalle di Consigli con quel bel pallonetto, meno male, meno male, ma comunque una Roma che in difesa ha ballato l'unica volta che il Sassuolo si è veramente spinto davanti, quindi vittoria per me oggi più che giusta, nel senso che la Roma ha creato Consigli, ha fatto un miracolo su Dybala, ha fatto un'altra bella parata su Lukaku, anche se in quel caso per me più che, diciamo, miracolo, è un errore grosso, troppo grosso di Lukaku, che aveva tutto quanto il tempo per stopparla, guardare verso la porta e calciare, e poi la Roma comunque ha avuto anche un'altra occasione con Azmon, che è un'occasione abbastanza abortita, poi presto, perché Azmon il gol se l'è mangiato, quindi le occasioni ci sono state, la Roma ha avuto le opportunità per pungere, non ha punto fino al rigore, poi il rigore e il gol, bene così, bene così, non era una partita facile, non era una partita che mi aspettavo di vincere, in realtà pensavo più a un pareggio, e ve l'ho detto anche venerdì, per fortuna, in qualche modo, la Roma l'ha spuntata questa gara, era fondamentale, perché vai a vedere comunque, la Lazio ha vinto, la Fiorentina ha vinto, il Bologna ha perso punti, il Milan ha vinto, il Napoli ha un big match questa sera, quindi tu vincendo che fai? Tieni il passo di quelle che hanno vinto, allunghi sul Bologna, metti pressione al Napoli, tieni il passo del Milan, e in più, al momento, almeno per qualche ora, almeno fino alla fine di Napoli-Inter, però il Napoli comunque va a giocare contro quella che fino a venerdì sera era prima in classifica, quindi non sarà una passeggiata, fino a, diciamo, le 11 di sera, 6 al quarto posto, a pari punti col Napoli, ha appaiato col Napoli, innegabile che comunque la Roma abbia avuto fino a oggi un calendario abbastanza agevole, pochi big match, da domenica prossima, dalla Fiorentina in poi, per un mese, praticamente, fino a metà gennaio, si comincia veramente a fare sul serio, si comincia comunque a giocare a raffica, big match, ad affrontare praticamente tutte quante le big, tranne l'Inter, che ha già affrontato, il Milan e la Lazio, il resto, tutte quante, nel giro di un mese, affronterai comunque la Juve, affronterai il Milan, affronterai il Napoli, affronterai l'Atalanta, la Fiorentina, il Boloi, tutte, tutte, quindi questi 40 giorni saranno veramente cruciali, secondo me saranno giorni fondamentali per capire anche a che punto è la Roma, se la Roma esce con le ossa sane, o più o meno sane, un po' acciaccate, ma, diciamo, abbastanza, non messe troppo male, allora, chissà, chissà, perché la Coppa quest'anno è molto complicata, secondo me, quest'anno è più il campionato che la Coppa, la Coppa la vedo male, la vedo sinceramente male, anche perché quest'anno veramente ti può capitare una squadra forte, le squadre forti che scenderanno dalla Champions, sono più forti di quelle dell'anno scorso, deco il PSG rischi di andare fuori subito, quindi il campionato è veramente importante, anche perché, parliamoci chiaro, stiamo a dicembre, non possiamo pensare di puntare tutto quanto su una Coppa che quest'anno è ancora più difficile dell'anno scorso, che tu possa vincere, il campionato va giocato bene, va giocato per arrivare quarto, è difficile, la Roma non è obbligata a farlo, secondo me, ma è obbligata a provarci, questo sì, e spero ci proverà fino in fondo, e con questo passo e chiudo, iscrivetevi, like e commento qui sotto e seguitemi anche sugli altri social, ciao!